Caro Lazzaro, navigatore di Lucira Web, questa settimana mi sento proprio di chiamarvi in questa maniera. È un brano del Vangelo meraviglioso, sotto molti punti di vista sconcertanti anche a livello umano, troviamo un Gesù Cristo che forse non ci aspettavamo. Tutti quanti noi conosciamo questo brano del Vangelo, della morte di Lazzaro, ma ci sono degli aspetti che mi piace mettere in evidenza, forse degli aspetti nascosti che non sempre abbiamo valutato nella nostra esistenza, ma che è importante rimettere in discussione. Bene, il primo aspetto è che in ognuno di noi c'è un Lazzaro, in ognuno di noi ha un sepolcro dove è stato messo a causa della sofferenza, a causa dei propri peccati, un luogo dove si sperimenta questa morte. E io spero che ognuno di noi abbia qualcuno che interceda per noi, come fanno le sorelle di Lazzaro. Morto Lazzaro, le sorelle di Lazzaro cominciano a intercedere per il fratello, mandando prima un'ambasceria e poi andando subito incontro a Gesù Cristo e facendo una meravigliosa testimonianza di fede. Bene, di fronte a questa morte è stupendo l'atteggiamento di Cristo davanti al sepolcro di Lazzaro. Cristo che davanti alla tomba dell'amico Lazzaro piange. Noi che mentalmente ci siamo costruiti tante volte un Dio distante da questi sentimenti umani, invece il figlio di Dio che piange per un amico. Che meravigliose parole! Com'è bello pensare che di fronte alle nostre morti Cristo piange con noi, Cristo ci è accanto. Un ultimo aspetto che voglio sottolinearvi, cari amici navigatori, è quando Gesù Cristo chiama a vita Lazzaro, è bellissimo che chiede a dei presenti, a delle persone, di andare ad aprire il sepolcro e di sciogliere Lazzaro dalle sue bende. Bene, questa è un po' la missione della Chiesa che viene inviata da Cristo a liberare l'uomo che è nella morte. Vedete un po' come Lazzaro viene aiutato in primo luogo dalla preghiera di intercessione delle sue sorelle e dei suoi familiari. Interroghiamoci. Noi preghiamo per i nostri cari, per i nostri amici che vivono in stato di sofferenza e noi stessi abbiamo qualcuno che preghi per noi. È bello anche che la missione della Chiesa è proprio quella di essere inviati da Cristo ad aprire questo sepolcro. Bene, la missione della Chiesa non è quella di girare la testa dall'altra parte, la missione di ogni cristiano non è quella di girare la testa dall'altra parte quando vediamo qualcuno da lontano che ha bisogno di cambiare banchino, di fare gli indifferenti o di lasciare che questo nostro prossimo affoghi. Cari amici navigatori, questa parola ci mette in forte discussione, in forte conversione. Vi invito a risentire lo sguardo di Cristo misericordioso nella nostra vita e vi invito noi stessi, anzi invito anche me stesso ad avere questa misericordia nei confronti dei nostri prossimi. Cari Lazzaro, buona navigazione in Cristo.